La tele-riabilitazione rappresenta un esempio di come gli strumenti informatici possono fornire un supporto di lavoro utile nonostante le distanze. Facilita la comunicazione, consente il mantenimento o instaurazione della relazione terapeutica a distanza e favorisce l'avvio di continuazione di percorsi riabilitativo di potenziamento. La tele-riabilitazione potrebbe essere un mezzo ideale per garantire in futuro le esigenze di continuità assistenziale. Ad oggi i servizi strutturati a tale scopo sono ancora estremamente limitati. A Crotone un convegno per far conoscere meglio la tele-riabilitazione e a mettere in evidenza le sue potenzialità. La tele-riabilitazione ha un futuro non solo come televisita ma come una parte che va all'interno dello sviluppo della medicina digitale. Cioè riuscire a tenere in carico il paziente dall'ospedale al territorio. E l'esempio qui a Crotone di Oberon è stato un po' un antesignano di questo modello. Cioè poter gestire le persone a casa in una condizione quasi di ospedalizzazione o comunque di supporto di tele-riabilitazione. Questo credo che sia un modello da perseguire e non può che andare insieme alla medicina digitale. In questo comparto regita un ruolo importante l'Istituto Sant'Anna col suo sistema Oberon. Oberon è stato inserito dal Ministero tra le buone pratiche nazionali in quest'ambito. Sì, è così anche perché è una delle pochissime che svolge l'attività che viene svolta qua con Oberon perché è una vera attività di continuità assistenziale tra l'ospedale, strutture di mantenimento e la casa che davvero sono praticamente certo che non ce ne sono altre di simili in Italia. È una cosa positiva, ho investito molto, ci sono stati necessari molti anni per arrivarci o meglio si è potuto cominciare parecchi anni fa ma al riconoscimento anche da parte seppur parziale della regione si sono voluti molti anni. Io mi auguro che strutture come queste vengano valorizzate da quelle che è il tessuto regionale dove incombono. Come voi sapete l'organizzazione sanitaria, quindi la capacità di rendere servizi appartiene alle regioni e il Ministero sicuramente ha sostegno di questo percorso. Quindi mi auguro che sempre di più, siccome le esigenze del cittadino sono sempre più forti e quindi bisogna organizzare i servizi in maniera tale che sia un servizio ma siano servizi di qualità.